Al tavolo di gioco con Fabio Delorsk, con più o meno 21.000 chips, Fabio siamo partiti bene, come sta andando il torneo? Siamo partiti bene, è un tavolo molto chiuso, si riesce a toccare bene, riesce a andare rispettati, un po' che scappa un paio di buone mani. Vedo che hai un campione come il Swiss al tuo tavolo. Sì, per fortuna sta giocando chiuso, chiaramente sto cercando di essere coinvolto con lui il meno possibile, perché sappiamo che è pericoloso. Ho il bantaggio per le spiezioni su di due, sono riuscito a toccare via un paio di piazze, grazie alla posizione. Ti lascio allora giocare concentrati. Grazie. Grazie.